Io ringrazio la sindaca Bugetti perché in questa fase è fondamentale proseguire questo lavoro che è già avviato da un po' di anni sui temi dello sviluppo economico della città, lavoro che ha portato in questi anni, grazie al lavoro di unità e di coesione su cui abbiamo lavorato in questi anni insieme alle forze economiche e sociali, ha importanti risultati. Tra questi risultati ovviamente c'è il tema dei 10 milioni per il distretto tessile, sono stati dati al comune di Prato grazie a un contributo previsto in legge di bilancio del governo Draghi e queste risorse sono state un elemento fondamentale perché ci hanno consentito di finanziare circa 150 aziende del distretto tessile in progetti di innovazione, di sostenibilità e di efficientamento energetico. Ora c'è da fare un upgrade, un salto di qualità che riguarda sia il rifinanziamento dei 10 milioni che ovviamente i progetti di sistema che noi ancora dobbiamo realizzare. A questo proposito già la prossima settimana verrà annunciato un primo progetto? Sì, la prossima settimana annunceremo il progetto sulla sicurezza dei loghi di lavoro proprio come primo progetto di sistema del distretto tessile. E quindi il comune assieme alle forze economiche e sociali della città ha scelto di partire da un tema così importante come quello della sicurezza dei loghi di lavoro. Sono previsti anche altri bandi per le imprese? A pochi giorni verrà pubblicata l'ultima graduatoria appunto sul bando di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica per l'assegnazione delle ultime risorse e poi l'ultimo bando che appunto concluderà gli 8 milioni appunto destinati ai finanziamenti diretto delle imprese del distretto tessile sarà un bando su sviluppo e ricerca, uno appunto dei settori o comunque delle modalità di erogazione dei fondi che il ministero aveva messo nel decreto attuativo cioè l'idea che in qualche modo noi potessimo andare a sostenere le imprese anche nei percorsi di sviluppo e ricerca andandole anche a sostenere economicamente. Questo lavoro in questi anni l'avevamo fatto sostenendo le imprese attraverso i ricercatori con il progetto Prisma in questo momento noi andiamo a mettere anche delle risorse proprio su questo tipo di investimenti che le aziende stanno facendo sul nostro territorio. A proposito di risorse è sempre più importante attirare finanziamenti regionali, nazionali e in particolar modo europei. Da questo punto di vista come rafforzare questa possibilità soprattutto nel rapporto con Bruxelles? Sì, questo è stato un lavoro importante negli ultimi anni perché diciamo soprattutto sui finanziamenti europei e nazionali noi abbiamo lavorato affinché questi diventassero un tema strategico dell'amministrazione. Io sono molto contenta e su questo punto la sindaca Bugetti voglia anche rilanciare nei prossimi anni perché credo che ancora ci sia bisogno di fare un salto di qualità, cioè di lavorare ancora in più stretto contatto sui temi dell'agenda urbana europea a livello europeo anche con l'ufficio della regione toscana che è a sede a Bruxelles e proprio a questo proposito il Comune di Prato sarà protagonista della settimana delle regioni europee, delle città europee a ottobre a Bruxelles promuovendo appunto lì tutte le iniziative che in questi anni abbiamo realizzato ma soprattutto cominciando a lavorare sui prossimi anni di finanziamento europeo.